Siamo arrivati a Silvio, vedete se c'è l'ottima filmata, c'è lì, c'è lato dentro, avete visto? Stiamo andando a Silvio, è tutto buono, una settimana prima del Natale, stiamo andando di bella piazza Navona in questo momento, mi faccio una bella pazientata e per ricordare una pefana in altissima, che cosa mi dirò, la mela è carica a mio, quella che non mi piace, io lascio la riazzita, tiravo quanto, 792, adesso è tipo tira, stavo arrivati, che ti fa tra piazza Navona, è così qua, preparatevi, c'è la riazzita, salutare via quando ti c'è la piazza, che ti sentono in un'altra, ci sento il biazza, e quando sei da il battito, non ci prendiamo l'alasse, stiamo controvendo, non sei da l'alasse, un'altra riazzita, ecco Grazie per la visione!